Amici di Instagram Allora, andate a vedere la diretta su Youtube Massima condivisione sui vostri social Amici, al sesto colpo di gioco ho fatto vincere Sia in Ambo, sia in Ambetto, sia a doppio estratto Avevo regalato anche su canali Instagram, canali Facebook e su Youtube soprattutto L'estrato 12 Baricagliari, 721 Baricagliari Avevo regalato 1221 Ambe, Ambetto, Baricagliari E questa sera che cosa è accaduto? Sesto colpo di gioco su Youtube Sia l'estrato 12, sia l'estrato 21 è uscito a Cagliari Sia in Ambo è uscito, 1221 E anche in Ambetto è uscito, con un 11 dentro Meno 1 è in Ambetto Anche in Ambetto è stato vinto Vi faccio vedere l'estazione Vi faccio vedere anche tutte le vincite E torniamo, e ritorniamo, ok? A dopo L'avevo regalato sul canale Youtube, vedete? Eh? Eh? Che bellezza Che bellezza, cari amici Che bellezza Che bellezza Guardate, l'avevo regalati Vedete? Ma vi faccio vedere anche le vincite C'è la mia diretta che ho fatto poco fa Massima condivisione Andatela a vedere Che ho presentato le vincite Ok? Adesso vi faccio vedere anche le vincite Un attimino Vamos! Ecco qua L'Amba a ruota Anche in Ambetto Vedete? Bacagliari E più doppi estatti E prima vincita Come doppi estatti Questo è stato giocato E questo è stato vinto 17 euro Non ha coperto come Ambo Poi L'Amba a 4 numeri 60 euro Poi L'Amba a ruota 2,35 Più altre 61 euro In Ambetto E 2,96 Poi L'estatto 21 15 euro Altre 15 euro Ok? Vamos! E che botta E che bottone Bacioni E vamos! Vamos! E che belle vincite L'avevo regalato su canale YouTube Su Instagram Su Facebook Ok Buona serata E buonanotte a tutti voi Ciao! Ciao!